124 positivi al covid in meno rispetto a ieri in provincia di ragusa inoltre oggi nessun decesso tutto pronto per la tanto attesa zona bianca di cui si attende l'ufficialità entro il 4 ottobre rinviato a giudizio il ragusano di 25 anni accusato d'aver provocato il tragico incidente stradale dove perse la vita Chiara Riva Roro il prossimo 2 febbraio dovrà rispondere domicidio stradale colposo un ignobile gesto vandalico tutto da chiarire data alle fiamme da ignoti la tenda dell'accoglienza sul ponte vecchio di ragusa era il simbolo di pace e integrazione adesso si cercano i responsabili tempo di bilanci per la fiera agroalimentare mediterranea conclusa domenica scorsa al foro buario di ragusa 15.000 visitatori e più di 300 espositori per la camera di commercio una scommessa vinta buongiorno e bentrovati con l'informazione di canale 74 oggi apriamo il tg con buone notizie che riguardano i contagi da coronavirus contagi che scendono sensibilmente 124 i positivi in meno rispetto a ieri e oggi nessun decesso quello che adesso si attende è l'ufficialità per l'ingresso in zona bianca da partire dal 4 ottobre i dettagli nel servizio i contagi in provincia continuano a registrare un decremento non si registrano inoltre decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore oggi sono 124 in meno rispetto a ieri 607 positivi in totale di questi 548 sono a casa in terapia domiciliare 42 sono invece i ricoverati per quanto riguarda i dati per comune inter eblea sono ad acate 14 chiaramonte 8 comiso 73 più 5 rispetto a ieri giarratana 0 a ispica 21 meno 4 rispetto a ieri a modica sono 66 monterosso rimane covid free quindi 0 pozzallo 26 ragusa 146 meno 5 positivi rispetto a ieri a santa croce sono 23 a scichili 60 e a vittoria 221 quindi meno 10 rispetto ad ieri in sicilia si attende intanto l'ufficialità sul ritorno in zona bianca per l'intera regione su cui la certezza si avrà nel fine settimana e che dipenderà dai dati dei prossimi giorni dati che al momento confermano un rallentamento nei contagi e difatti la sicilia passa al secondo posto in italia prima in italia adesso l'emilia romagna e intanto i papà possono tornare ad assistere al parto al reparto di ginecologia ed ostetricia al guzzardi di vittoria una buona notizia per i futuri papà che rispettando il protocollo appositamente redatto potranno essere presenti ed assistere quindi alla nascita dei figli sul fronte vaccinazione invece si lavora per la gestione della terza dose che a breve sarà disponibile per tutte le fasce individuate dal ministero della salute l'ospedale maggiore di modica rientra inoltre tra i cinque nosocomi premiati per la gestione e l'efficienza della campagna vaccinale messa a punto canali social notizie sul sito istituzionale intranet che hanno raggiunto l'obiettivo di raggiungere quante più persone possibili riuscendo allo stesso tempo a eliminare fake news diffondendo quindi notizie certe ad occuparsi della ricerca onda l'osservatorio nazionale dei diritti delle donne che ha analizzato le varie campagne vaccinali messe a punto dai nosocomi a modica molti ricorderanno il tragico incidente stradale dello scorso 10 dicembre quando perse la vita la giovane mamma maria chiara rivaloro che nulla ha potuto fare per evitare l'auto che proveniva ad alta velocità dal senso opposto adesso il 25enne ragusano dovrà rispondere di omicidio stradale colposo nell'udienza preliminare del processo fissata per il prossimo 2 febbraio i familiari di maria chiara rivaloro la giovane mamma di 29 anni morta lo scorso dicembre in un incidente stradale a modica continuano a chiedere giustizia perché l'unica colpa di chiara è stata quella di essersi trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato quando si è vista un'auto sulla propria corsia che procedeva a velocità sostenuta verso di lei l'impatto è stato inevitabile le conseguenze terribili chiara è morta qualche ora dopo in auto con lei anche il figlio di 11 anni che ha riportato una lesione alla spalla adesso gt queste le iniziali dell'altro automobilista di 25 anni ragusano che dovrà rispondere adesso di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi per colpa di imprudenza imperizia e inosservanza delle norme del codice della strada concluse le indagini preliminari sullo scontro mortale avvenuto lo scorso 10 dicembre del 2020 alle 19 e 40 sulla statale 115 a modica il pubblico ministero della procura di ragusa ghettano scollo ha chiesto quindi il rinvio a giudizio per il giovane ragusano alla guida di una fordca il gruppo del tribunale ragusano eleonora schininà ha fissato per il prossimo 2 febbraio alle 9 30 l'udienza preliminare del processo l'imputato alla guida della fordca stava procedendo sulla statale 115 con direzione ispica modica quando all'altezza di agi distribuzione ha perso il controllo della vettura che ha invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva la forde fiesta condotta da chiara con a bordo il figlio di 11 anni rimasto anche lui ferito la giovane ha tentato una manovra disperata buttandosi sulla destra ma nulla da fare l'impatto è stato inevitabile lei ha riportato un gravissimo trauma cranico ed è stata trasportata in ambulanza in condizioni disperate al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di modica dove è morta dopo mezzanotte di qui dunque la richiesta di rinvio a giudizio per il gt che si è appurato viaggiava a una velocità ben superiore ai limiti 91 chilometri orari dove il massimo imposto dalla segnaletica stradale riportava 50 chilometri orari continua a far discutere a ragusa quanto accaduto la scorsa notte sul ponte vecchio dove ignoti hanno dato alle fiamme la tenda dell'accoglienza tantissime oggi le prese di posizione da parte di esponenti politici associazioni o semplici cittadini nessun dubbio sull'ignobile gesto certamente da condannare ma ci si interroga anche sul perché distruggere un simbolo di pace e di integrazione sociale c'è ancora tanto da capire sul chi e sul perché è stata bruciata la scorsa notte la tenda dell'accoglienza ragusa un atto vandalico razzista o semplicemente una incomprensibile bravata certo è che la notizia ha preoccupato la comunità ragusana quella per bene che mai si sarebbe aspettata proprio a ragusa un simile gesto da parte di ignoti la tenda dell'accoglienza era stata inaugurata la presenza delle varie autorità locali di ragusa il 20 settembre in piazza san giovanni poi trasferita sul ponte vecchio dove era stato stesso il trappo formato dall'unione di stoffe differenti la scorsa notte qualcuno ha dato fuoco a questo simbolo dell'accoglienza per la giornata mondiale del migrante del rifugiato in vista della quale la fondazione san giovanni battista ne aveva curato la realizzazione secondo renato meli presidente della fondazione attraverso la tenda si era voluto ricostruire un luogo di incontro e partecipazione territorio fertile per lo sviluppo della persona sincera ora sono in corso le indagini per capire chi può aver compiuto il gesto la tenda non dava fastidio ed era un sito poco frequentato probabilmente si tratta di una bravata di ragazzacci ma si potrebbe nascondere dietro questo vandalismo anche un segnale di insofferenza certo è che il momento non è dei migliori e tanti hanno ancora difficoltà a vivere dignitosamente accoglienza continua meli è una bella parola ricca di significato ma per chi vive comunque ai margini della società può essere un termine di paragone che si presenta giorno per giorno ma difficile da digerire è importante dunque capire perché la tenda è stata bruciata in modo da offrire anche alla fondazione san giovanni un momento di riflessione tanti gli attestati di solidarietà ricevuti in queste ore da parte di esponenti politici associazioni o semplici cittadini per l'ex sindaco di ragusa nello di pasquale un gesto impensabile in una città come quella di ragusa tollerante e inclusiva per questa ragione giudico preoccupante conclude il deputato ibleo l'episodio e temo che alcune posizioni estremiste e razziste cominciano a farsi spazio in città a intervenire ieri pomeriggio anche il sindaco di ragusa peppe cassì non è e non sarà considerato un atto goliardico ha affermato il primo cittadino bruciare la tenda dell'accoglienza che era stata cucita unendo drappi tessuti da mani di tutto il mondo grazie all'impegno della fondazione san giovanni è un atto di grave vandalismo e ancora peggio è un gesto di palese inaccettabile l'intoleranza di idiozia e di viaccheria con che coraggio si può dare alle fiamme un simbolo di pace e di integrazione ragusa non è questa commenta cassì siamo anzi certi che altri simboli della fratellanza continueranno a colorare la nostra città ci appelliamo quindi alle forze dell'ordine affinché individuano al più presto i responsabili tempo di bilanci per la 46esima edizione della fiera agroalimentare mediterranea che si è svolta a ragusa una tre giorni dedicata alla zootecnia e all'agricoltura più di 15.000 i visitatori che si sono recati in fiera organizzati poi convegni per capire quali azioni mettere in campo per la ripartenza del settore archiviata la fiera agricola mediterranea è già tempo di bilanci 15.000 visitatori più di 300 espositori questi primi numeri della 46esima edizione della fam conclusa domenica scorsa al foro buario di ragusa una scommessa vinta ed un bilancio quindi più che positivo per standisti ed organizzatori una fiera ancora più attesa delle precedenti dato che la pandemia ha costretto a rimandare l'edizione dell'anno precedente questa dunque ha segnato la vera e propria ripartenza dopo la crisi della pandemia e forse anche questo ha reso entusiasti quanto ne hanno preso parte l'evento promosso dalla regione sicilia ha visto la presenza dell'assessore all'agricoltura antonino scilla all'inaugurazione e del presidente della regione nello musumeci nel giorno della premiazione a sostenere l'evento anche il comune di ragusa poi ancora la banca agricola popolare oltre che il consorzio interprovinciale degli allevatori e proprio la mostra zootecnica pare sia stata il punto di forza della fiera in grado di attrarre tantissimi visitatori tutto si è svolto in sicurezza spiega salvatore guastella vicepresidente della camcom alla fiera hanno avuto accesso soltanto persone con certificazione verde per l'occasione è stata pure allestita un'aria tamponi e sono stati più di 300 i test effettuati all'ingresso poi sono state controllate le temperature insomma tutto è stato gestito per evitare problematiche legate al covid 15.000 visitatori aggiunge ancora guastella sono la dimostrazione che la fam andava fatta e che nel tempo tenderà a crescere puntando ad essere vetrina regionale e oltre del settore la camcom è da ringraziare nella sua interezza commenta il capo area promozione della camera di commercio giovanna licitra per le risposte che ha saputo dare non era facile ma ritengo sia stato fatto davvero un buon lavoro stessa cosa conclude può dirsi del comune di ragusa gli organizzatori fanno poi presente che è stato più difficile quest'anno organizzare la fiera ma nonostante questo tutto si è svolto secondo i piani permettendo una completa riuscita dell'evento e si inizia già a pensare alla prossima edizione durante la fiera sono stati anche organizzati convegni che hanno permesso di valutare le azioni da mettere in campo per sostenere gli operatori del settore operatori che soffrono e che hanno certamente bisogno del sostegno della politica per ripartire e puntare al futuro monsignor la placa è stato ricevuto in udienza privata da papa francesco nell'occasione il vescovo ha invitato il santo padre a visitare la diocesi presente al vaticano anche uno scultore comisano scalambrieri che ha donato una statuetta di bronzo a papa francesco il vescovo di ragusa monsignor giuseppe la placa ricevuto in udienza privata da papa francesco lo ha invitato alla settantacinquesimo anniversario della fondazione della diocesi nel 2025 a ragusa l'udienza si è svolta nella biblioteca del vaticano il santo padre ha fatto un sorriso e un cenno di assenso racconta fin udienza monsignor la placa con una battuta mi ha risposto dicendo che nel 2025 sarà giovanni ventiquattresimo a fare quella visita il vescovo spiega poi che si è trattato di un colloquio affettuoso e semplice che ha lasciato una profonda traccia nell'animo paterno e dello spirito apostolico del santo padre durante l'udienza si è parlato poi della vita della diocesi il vescovo ha ringraziato il santo padre per lo zelo apostolico a servizio della chiesa universale il vescovo ha poi presentato al santo padre l'artista comisano giovanni scalambriere che ha offerto per l'occasione al papa una statua di bronzo raffigurante la madonna che scioglie i nodi la statuetta alta 61 centimetri è stata realizzata con la tecnica della cera persa nella fonderia vulcano di mazzara del ballo la scelta della raffigurazione non è peraltro casuale ma dovuta ad una devozione sentita da papa francesco proprio in occasione della preghiera mariana che ha interessato i santuari presenti nel mondo recitata dal papa la preghiera conclusiva è stata infatti proprio quella della madonna che scioglie i nodi la preghiera è stata recitata davanti ad un dipinto che raffigura la madonna e il santo padre ha invocato proprio la fine della pandemia all'udienza il vescovo ha quindi presentato a papa francesco scalambrieri la moglie dell'artista e il vicario generale monsignor roberto asta tutti ricordiamo l'incendio dello scorso 11 agosto che distrusse ettari ed ettari di parco cala forno ad oggi inoltre tante le promesse ma nulla è stato fatto a denunciare il silenzio calato sull'argomento sono gli imprenditori danneggiati che si appellano alle istituzioni locali e regionali dopo l'incendio di cala forno dello scorso 11 agosto tanto rumore ma finora niente di più e in sintesi quanto lamenta chi ha le proprie aziende e i propri allevamenti nelle zone immediatamente limitrofe alle aree in questione le stesse persone che hanno visto i sacrifici di una vita se non di una generazione svarire in un attimo ad oggi si legge nella loro nota in molti hanno manifestato intenzioni iniziative buoni propositi per favorire la rinascita delle aree devastate ma ben pochi si sono realmente interessati ad aiutare o almeno incontrare i diretti interessati in verità affermano sempre gli imprenditori qualcuno che si è ricordato di queste imprese effettivamente c'è lo ha fatto il deputatibleo razzo ragusa contattando gli operatori e incontrandoli in due riunioni la prima direttamente nelle aree limitrofe al parco di cala forno visionando parte dei danni prendendo atto delle perdite di capi di bestiame foraggio raccolti recensioni ed altra ancora e diventando portavoce degli operatori nelle sedi istituzionali preposte nella seconda riunione che si è svolta il 17 settembre alla presenza del dirigente dell'ispettorato forestale il deputato ragusa ha incontrato ancora una volta allevatori coltivatori diretti operatori economici che hanno subito danni e che sono destinatari di ristori ci siamo fatti carico di parlare con questi imprenditori abbiamo fatto un incontro perso l'ispettorato agrario di ragusa abbiamo discusso e abbiamo spiegato quali sono i primi provvedimenti che si possono fare previ una domanda saranno già elargiti le prime somme che riguardano dove ci sono le condizioni massimo di 25 mila euro per realizzare intanto l'acquisto che riguarda foraggio e quindi alimento per gli animali e dopodiché se si vuole e c'è lo spazio economico iniziare a fare la recinzione affinché gli animali non passino in altri privati per creare danni tutto questo va sostenuto attraverso anche un'altra storia che è la nomina commissario degli interventi incendiari di quest'anno del presidente Musumeci ho già parlato col presidente lui ha già messo in contatto la nostra protezione civile regionale con quella nazionale aspettiamo quali saranno i provvedimenti e le somme che stanzieranno e che andranno a fuori di questi soggetti che ne hanno bisogno insomma difficoltà per le pratiche da presentare per poter ottenere ristori per quantificare i danni per capire se si ha diritto o meno ai ristori anche per le recinzioni per rifare la mentono gli imprenditori le recinzioni dell'ente forestale occorre trovare fondi regionali bandire gare aggiudicarle sperare che non ci siano ricorsi aspettare che le ditte aggiudicatarie si procurino reti e paletti verificare che il prezzo sia conforme ai prezzi regionali trovare personale che si adoperi dopo tutta la trafila di rito a svolgere finalmente questo compito intanto il tempo corre gli allevamenti privi di recinzioni non sono in sicurezza i futuri raccolti sono andati distrutti ed è qui che dovrebbe iniziare a vedersi la buona politica quella svolta fra la gente per la gente in definitiva quello che gli imprenditori danneggiati chiedono è che chi di dovere si adoperi per snellire la burocrazia e trovare sostegni adeguati fin da subito operando in regime di somma urgenza. Sempre più precari in provincia una situazione che preoccupa il sindacato CISL che adesso chiede un patto sociale che serva per individuare su quali punti lavorare per puntare alla rioccupazione. La proposta è quella di partire da corsi di formazione del personale. Istituire un patto sociale per far fronte alla situazione di emergenza in cui si ritrovano i lavoratori precari della provincia di Ragusa. A chiederlo a gran voce Vera Carasi la segretaria generale dell'Ust CISL Ragusa Siracusa a far preoccupare la Carasi ritardi strutturali che non permettono di raggiungere alte percentuali di persone occupate e sono sempre di più i precari e anche a Ragusa e questo conferma il trend negativo. Si tratta di effetti distorsivi del mercato che non permettono di poter ripartire in pieno dopo lo stop inflitto dalla pandemia. In altre parole la segretaria del sindacato chiede che ci si soffermi con attenzione sul lavoro, contrasto alla povertà, equità e contrasto alle disuguaglianze. Per la CISL insomma si deve realizzare un livello di welfare sempre più simile a quello degli altri paesi dell'Unione Europea nella sua interezza e non soltanto su alcuni aspetti. Il futuro, spiega, ci mette innanzi una quantità importante di risorse che ci può aiutare se viene impiegata a risollevare la nostra aria dalle macerie della crisi sanitaria, economica e sociale ma dobbiamo decidere come fare tutto questo. Chiede quindi un grande senso di responsabilità e lavoro sinergico che permetta di investire nel futuro. Si può partire e conclude da percorsi di formazione e apprendimento continuo che coinvolgano tutti, occupati, disoccupati, cassi integrati e naspizzati. L'obiettivo è quello di preparare il personale per sviluppare delle competenze sia di base che specialistiche. Maggiore attenzione poi deve essere data alle competenze digitali fondamentali di ogni settore. E per oggi è tutto, non ci sono aggiornamenti, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona continuazione di giornata.